Si accede alla procedura online su portale della Regione Toscana attraverso l'indirizzo regione.toscana.it slash alluvione2023 Cliccare sulla finestra in Introduzione Rendi contazione, danni privati L'autenticazione avviene tramite SPID, CE e CNS Cliccare sulla lente di ingrandimento per visualizzare le proprie domande presentate Selezionare la singola domanda per la rendicontazione dei danni cliccando sull'icona più a sinistra Inserire i dati della prima spesa sostenuta Il nome del fornitore, il codice fiscale o partita IVA Allegare l'eventuale preventivo di spesa Allegare la fattura o ricevuta della spesa sostenuta Inserire il numero della fattura o ricevuta Inserire la data della fattura o ricevuta Selezionare il tipo di fattura o ricevuta dal menu a tendina Inserire l'importo imponibile netto Inserire l'importo IVA Inserire una breve descrizione della spesa sostenuta Verificare che i campi siano corretti e cliccare su Salva bozza Una volta inserita la spesa sostenuta, è necessario inserire il pagamento realizzato relativo alla spesa sostenuta Selezionare il tipo di pagamento dal menu a tendina Inserire la data del pagamento, la data valuta e l'importo Allegare l'estratto conto del pagamento, la ricevuta del pagamento e cliccare su Salva bozza Sarà possibile inserire ulteriori pagamenti eseguiti relativi alla singola spesa sostenuta con le stesse modalità Successivamente, è possibile inserire ulteriori singole spese sostenute, sempre con le stesse modalità Per coloro che hanno dichiarato importi, per la parte di danni previsti nel modello B1 superiori a 8.000 euro È possibile richiedere l'anticipo del contributo di 2.500 euro Leggere le condizioni di anticipo e spuntare la casella di accettazione della richiesta Prendere visione e autorizzare il trattamento dei dati personali, spuntando la casella, e cliccare su Salva Cliccando su Elimina spesa e pagamenti ed Elimina pagamento sulla destra, è possibile cancellare tutta la spesa e i pagamenti, oppure il singolo pagamento inserito In caso di delega fare clic su Delega al caricamento, all'inizio della pagina, e inserire il codice fiscale del beneficiario, numero protocollo e anno protocollo Scaricare la delega, dall'icona download in rosso, caricarla opportunamente compilata e firmata digitalmente Accettare le condizioni spuntando la casella e cliccare su Salva e Trasmetti Una volta inserite tutte le spese e i pagamenti, verificare che i campi siano corretti e cliccare sul tasto a destra Trasmetti per inviare la domanda di rendicontazione Confermare, cliccando su OK, la chiusura e trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute Informazioni e supporto su regione.toscana.it Slash alluvione 2023